E allarme degrado nelle aree contigue all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. A caratterizzare il panorama, la presenza di rifiuti abbandonati, aumentati nel tempo e frutto dell'inciviltà di molti passanti. Una situazione segnalata da numerosi cittadini che ricalca quello che accade in molte aree periferiche del territorio, dove l'inciviltà regna sovrana e dove i cumuli di rifiuti compaiono nuovamente dopo ogni bonifica. Grazie.